Perché davvero un'organizzazione come questa, che afferma nel suo atto fondativo la fede, nella dignità e nel valore della persona umana, può voltarsi dall'altra parte di fronte a questo scempio. Sono convinta che sia dovere di questa organizzazione rifiutare ogni ipocrisia su questo tema e dichiarare una guerra globale senza sconti ai trafficanti di esseri umani. Ma per farlo dobbiamo lavorare insieme a ogni livello e l'Italia intende essere in prima fila su questo fronte.